E' meglio di niente. Jacob, trovato niente? Il deposito era già stato saccheggiato. C'è solo un manganello. Un manganello elettrico, sì. Quegli affari fanno male. Ne avremo bisogno. Ascolta, sei quasi alla torre di guardia. Io sono già dovuto entrare, ma era vuoto. Non avrai problemi. Ci vediamo dall'altra parte. Sì, ci vediamo là. Questo ci farà comune. Portalo con te al reforge. Puoi usarlo per farti un'arma. Nel frattempo io mi infiltro nel sistema. Effettuare la selezione. Ispezionare l'abbiolpante prima del lato. Ok, ci sono. Per uscire da qui ci serve una nave che tu sappia pilotare. So di una persona capace di hackerare la rete e richiamare una nave dall'orbita. Peccato che sia in isolamento, massima sicurezza. Non sarà una passeggiata arrivarci. Ti dà fastidio al coro? Sì, in continuazione. Quell'affarino ti frigge il cervello. Tranquillo. Ti ci abituerai presto. Sì, un sacco di cose su questo posto. Già, ho avuto molto tempo. Quindi adesso all'isolamento? Testa bassa e corriamo? Mi piacerebbe, ma non sarà così semplice, caro mio. Sono qui da un sacco di tempo e ho dei privilegi che tu non hai. Perciò dovrò portartici in un'altra maniera. Ti farò io da guida. Sarò i tuoi occhi e le tue ore. Puoi usciarmi sulla spine, a meno che tu non conosca un altro pilota. Non temo di no. Ti apro io la porta. Un guanto, come quello del Capitano. È un GRP. Le guardie adorano usarli su noi detenuti. Sì, me lo ricordo. Ma va bene. E funziona su qualunque cosa. Coraggio, provalo. Accordo. E funziona su quel corpo. Sì. 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 non hai tempo da perdere jacob controllo qualitativo non mi ascaffavo di rivederti ma no? e perché? eh? perché mi hai lasciato a morire? e tu hai cercato di uccidermi sulla tua nave direi che siamo pari santi forse non te ne sei accorta ma qui è successo un cazzo di casino ehi io non piaccio a te e tu non piaci a me però Elias aveva ragione bene riparo il gatto delle nevi per raggiungere l'hangar tu apri il cancello principale come so di potermi stidare? tieni prendilo ti servirà quelle cose sono ovunque sono jacob comunque so bene chi sei qui va Stampa! Sgomberare l'area di assemblata. L'U.G.C. non è responsabile per il tuo ascolto. Sgomberare l'area di assemblata. Sgomberare l'area di assemblata.